Ciao sono Claudia, oggi sono stata all'incontro con Luca Bete a Campobasso e la cosa che mi è piaciuta di più è stato il suo racconto della sua esperienza personale perché credo che noi ragazzi vogliamo tutto e subito invece è stato bello capire come fare ad affrontare i problemi che senza dubbio ci si presenteranno quindi dopo questo incontro mi sento più forte e ho capito che non ci ferma nessuno